Dopo la sentenza c'è via libera la costruzione dell'impianto di depurazione? Io direi che queste affermazioni che abbiamo sentito nei giorni scorsi sono frutto di crassa ignoranza. Come dico nel mio comunicato sono degne di asini con code e orecchie molto lunghe. E sono asini perché non conoscono la differenza tra l'illegalità, la illegittimità e la illicità penale. La spieghiamo. Andare contro senso sul viadotto Morandi è certamente un'azione illegale, contraria alle norme sulla circolazione. Ma se non vai a un incidente non è reato penale. È chiaro, no? Posseggiare un'auto in divieto di sosta è un'azione illegale, ma se non vai a un incidente non è reato penale. E prendesse un giorno in più di quello che spetta di ferie è un'illegittimità, ma non è un reato penale. Dà luogo all'isarcimento del danno. Allora, in questo momento la sentenza della Corte d'Appello ribalta la decisione del Tribunale che riteneva che nel comportamento dei progettisti vi fosse reato penale e dice non vi è reato penale. Poi vedremo le motivazioni e vedremo se saranno condivise dalla Corte di Cassazione. Ma certamente non vi è l'automatismo, cioè niente reato penale, tutto legale, tutto legittimo possiamo andare avanti. Noi abbiamo una norma amministrativa che vieta che i depuratori e le case possano stare vicine. Lo vieta per un vatto di civiltà, perché abbiamo visto tutto quello che avviene al villaggio Mosè. Lo scorso anno le proteste degli abitanti, qualche settimana dietro le proteste degli abitanti per le puzze, le invezioni. E allora noi, avendo una situazione simile, possiamo consentire che non si tenga conto delle leggi? La domanda è cosa accade ora. Sarà il Comune di Agrigento, adeguatamente compulsato, sarà lato idrico a dirci se sono rispettate le norme di settore, quelle sulle distanze degli abitati, da parte di quell'impianto di depurazione. Se qualcuno, io ritengo che non vi sarà nessuno, è in grado di dire una cosa simile, allora ne prenderemo atto e glielo faremo realizzare. Ma mi pare molto complicato che c'è qualcuno che ci può dire che il depuratore con le case e gli uffici a 30 metri possa andarsi tranquillamente a realizzare.